In tre, a volto coperto da armati di sprang, sono entrati in azione nella notte al centro nuoto Valdarno di Monteverchi, un colpo immortalato dalle telecamere di video sorveglianza. Erano da poco passate le 4 di notte quando la banda di lati è entrata all'interno della struttura di via Matteotti attraverso un buco ricavato nella recinzione esterna. Prima tappa il chiosco che si trova nel resed esterno dal quale hanno portato via il fondo cassa a circa 50 euro. Non soddisfatti, i ladri sono entrati anche nella struttura principale del centro, hanno rovissato ovunque e portato via uno smartphone. Magro il bottino, ingenti invece danni che la banda sia lasciata alle spalle, sono infatti stimati tra i 3 e i 4 mila euro. La struttura questa mattina è stata comunque regolarmente aperta al pubblico. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, ai quali è già stata sporta la denuncia. Si tratta dell'ennesimo assalto e danni di attività della vallata che nelle ultime settimane è finita più volte al centro delle cronache locali per episodi di furti e rapine.